Ciao a tutti ragazzi, questo è il mio primo vlog per il mio canale, e come dire, guarda, questo è il mio computer, come vedete, è bello, questi sono i miei video, che le ho caricati. Moro, dovrò cercare di fare molti video, di ocuole Minecraft e altre cose belle, consigliate voi dei giochi, dei papi, dei papi.